Allora, buonasera a tutti e benvenuti a Biblioteca Novi Isolotto per questa occasione d'incontro che la Commissione Consigliare 7 ci ha proposto e che abbiamo veramente accettato con piacere. Ringrazio Donato Bianchi che ha pensato alla biblioteca come luogo dove incontrarsi su questo argomento. È appena finito il mese di novembre, mediamente dedicato alla violenza di genere, in particolare sulle donne. Come ben sapete, io non vi rubo molto tempo perché gli ospiti sono tantissimi, numerosi e quindi è meglio dare spazio alla discussione. Voglio solo ringraziarvi, pregarvi se avrete tempo di fare un giro in biblioteca e se tornate a trovarci ci fate molto piacere. Seguiteci con i nostri programmi, ci sono molti altri incontri interessanti. Passo subito la parola a Donata Bianchi, Presidente Commissione Consigliare 7 del Comune di Firenze che vi presenterà gli ospiti. Buona serata a tutti. Grazie, siamo in diretta Facebook, potete segnalarlo. Siamo in diretta Facebook sulla pagina della Biblioteca Canova. Siamo qui per un evento che io riassumo e ringrazio anche per l'organizzazione la Commissione Realtà Servizi Culturali ed Educativi del quartiere 4 perché in realtà questo evento nasce anche da uno scambio che è avvenuto con la Presidente della Commissione Beatrice Barbieri che ringrazio e che sarà poi diciamo una delle co-condruttrici. Abbiamo molte presenze, quindi pochissime parole. L'evento nasce da uno scambio con Valentina Sessa, a esito in realtà anche della sua presentazione di raccolta di poesie che mi ha fatto riflettere sull'importanza anche di codici comunicativi diversi per parlare anche della violenza. Ho quindi raccolto questa sua sollecitazione, dividendola anche con Beatrice e oggi siamo qui e abbiamo con noi intanto Sara Funaro, assessora all'educazione e a welfare della Comune di Firenze. dovrebbe raggiungersi anche l'assessora Benedetta Albanese. Abbiamo sostanzialmente due sessioni. Una prima sessione composta da tre ospiti, Maria Grazia Anatra, autrice, insegnante, presidente dell'associazione Human2B che da alcuni anni sta facendo un'esperienza molto interessante di scoperta delle parole per parlare ai bambini che vivono in condizioni di esposizione a violenza domestica. Abbiamo poi con noi Gaia Nanni, attrice, per una riflessione sul teatro, sul potere del teatro ma anche gli elementi, se vogliamo, di diseguaglianza interni al mondo del teatro. E infine Valentina Sessa appunto che ci chiuderà questa prima sessione, cui poi seguirà una seconda sessione con Imelda Zechiri, Giovanna Melloni e Petra Filistrucchi con alcuni pensieri che si costruiscono attraverso la poesia. Come lei ci narrerà, la poesia è stata utilizzata spesso per esprimere dolore, dolore anche delle donne e quindi sembrava molto importante anche introdurci a questo. Io credo che questi mezzi comunicativi siano molto importanti. usciamo da un 25 novembre dove ne abbiamo parlato molto. Nel 25 novembre noi ci troviamo ad affrontare un problema degli uomini che ha conseguenze sulle donne. Credo che sia importante anche una riflessione che attraversa la cultura per attivare uomini e donne anche su questo tema in un percorso comune. Lascerei poi la parola a Beatrice Barbieri e poi all'assessora Funaro. Allora, buonasera a tutti e bentrovati. Quest'evento rientra nella rassegna del filo rosso del quartiere 4. È stata una rassegna che ha visto tantissimi eventi costruiti all'interno del quartiere, ben 18 eventi e quando con Donata ci siamo confrontate sulla data ci è piaciuto molto il fatto di proporla fuori da quella che era il mese di novembre. proprio come segnale e sottolineatura che l'attenzione verso questo problema non può essere legata ad una data, non può essere legata a un momento, ma deve avere il suo continuo, giorno a giorno. E questo essere nel mese di dicembre, seppur gli inizi, però è proprio un ulteriore segnale che vogliamo dare. Continuiamo a parlarne, continuiamo a prendere coscienza giornalmente di quelli che sono i problemi che ci accompagnano quotidianamente. Il tema che affronteremo oggi della violenza domestica è un tema particolarmente importante, perché quando parliamo della violenza sulle donne spesso e giustamente ci concentriamo su quella che è la persona che subisce la violenza direttamente. ma dietro a questa ci sono tutte quelle persone che di rimbalzo vivono quella che è la situazione di disagio e di rastornamento che porta a una violenza all'interno anche di una violenza domestica. le cosiddette vittime collaterali, coloro che si trovano coinvolti nel recupero, affrante dal dolore, nel recupero di quelle che sono situazioni che andranno avanti nel tempo e nella vita, come ad esempio quando ci troviamo di fronte a dei bambini che purtroppo all'interno delle case sono coinvolti in una situazione del genere. Allora io passo la parola a Sara Funaro, l'assessora Sara Funaro, la ringrazio in particolar modo di essere presente con noi e poi richiederei la parola per introdurre il primo ospite. Buonasera a tutte e a tutti. Si sente col microfono? Sì, benissimo. Perfetto. Allora intanto un grazie a Beatrice Donata per aver organizzato questa bella iniziativa. Mi piace molto il messaggio di continuare a discutere di questi temi anche e soprattutto al di fuori del mese di novembre e di quella che è la giornata simbolo della violenza di genere e della violenza sulle donne. Perché troppo spesso tendiamo a concentrare tutte le iniziative di sensibilizzazione in quei giorni mentre noi siamo tutti molto consapevoli che di queste tematiche bisogna parlarne tutti i giorni dell'anno. Non solo parlarne ma bisogna agire tutti i giorni dell'anno. Devo dire che le nostre donne del quartiere e del comune sono tutte molto sensibili e molto attente a queste tematiche. Io penso un po' anche per un discorso di storia e di vita personale da un punto di vista anche professionale ognuna in maniera differente però importante in entrambi i casi è un po' perché quando fai parte delle istituzioni ti senti anche la responsabilità di dover dare dei messaggi di dover mettere in campo delle azioni e dover cercare di fare sempre di più perché ci rendiamo conto che gli sforzi che vengono fatti arrivano fino a un certo punto ma non sono mai abbastanza. Ringrazio tutte le nostre relatrici che poi Beatrice presenterà molto meglio di me ma che sono tutte donne impegnate e sensibili su queste tematiche ognuna in modo differente e la bellezza secondo me di aver messo insieme donne che si occupano di tematiche differenti ma tutte sensibili al tema della violenza è un segnale importante perché dà il senso che quando si parla di violenza bisogna parlarne utilizzando tutti gli strumenti possibili per cui non solo attraverso le azioni non solo attraverso l'assistenza non solo attraverso quella che è la prevenzione primaria ma anche e soprattutto mandando messaggi culturali perché le cose devono necessariamente stare insieme per cui questa platea che c'è qui oggi è estremamente importante proprio in questi giorni si stavano portando avanti delle riflessioni con Benedetta ci stiamo ritrovando a tanti eventi e tante iniziative insieme perché? Perché quando si parla del tema della violenza in particolar modo in questo caso della violenza domestica c'è un tema da una parte di assistenza di presa in carico e di tutela delle persone ma che non può prescindere da tutto il lavoro che viene fatto da un punto di vista di pari opportunità e di sensibilizzazione da questo punto di vista per cui il gioco di squadra è fondamentale se vogliamo arrivare a dei risultati che siano dei risultati concreti la violenza domestica e qui lo dico sicuramente a una platea molto attenta e molto sensibile è una delle problematiche storiche più radicate, più complicate che abbiamo soprattutto nel nostro paese più problematica perché è una di quelle più difficili da far emergere è una delle più difficili soprattutto quando si ha a che fare con donne che non hanno il coraggio di venirne fuori in qualche occasione per un problema di dipendenza psicologica in qualche occasione per paura di dover ricominciare una vita e lo vediamo benissimo proprio se ne parlava anche l'altro giorno al trentennale di Artemisia proprio perché c'è un tema anche di prospettive da un punto di vista di autonomia e del lavoro che è estremamente complesso per quello che riguarda il mondo delle donne quindi su questo ovviamente noi dobbiamo avviare anche delle riflessioni sulle opportunità che si creano ma c'è anche uno stigma sociale che ancora non è superato nel nostro paese che è ancora estremamente forte il dover ammettere in qualche maniera che attraverso quella che è la forma perfetta della famiglia ci possano essere delle storture così grosse prenderne coscienza, denunciare, uscire fuori è in assoluto la cosa più complicata del mondo a maggior ragione quando ci sono dei bambini nel mezzo lo diventa ancora di più per cui il lavoro dell'istituzione diventa ancora più difficile diventa ancora più complesso riuscire a intercettare riuscire poi ad agire senza dover arrivare per forza al momento dell'apice del conflitto che poi diventa il momento in cui si prende coraggio e si denuncia e ho visto proprio in questi giorni c'è una proposta che io apprezzo tantissimo a livello di governo dove vengono proposti dei passi avanti importanti per mettere in condizione la società e la comunità di essere parte di un percorso di responsabilizzazione collettiva perché è questo che bisogna fare tutti insieme se io sono il vicino di casa e ho dei segnali posso segnalare e posso fare in modo che questa segnalazione porti dei frutti ora ho portato un esempio a caso però penso che questo sia la strada giusta perché se vogliamo realmente iniziare a agire in termini preventivi sulla violenza domestica bisogna intervenire facendo in modo che la comunità tutta sia responsabilizzata e che accompagni le situazioni di fragilità faccio un piccolo inciso e poi concludo perché voglio lasciare la parola a tutte le nostre relatrici in tutto questo sappiamo benissimo che all'interno della violenza domestica spesso la maggior parte delle volte si parla di donne purtroppo si parla spesso di bambini che anche se non la subiscono direttamente la violenza indiretta ha lo stesso impatto drammatico poi in quella che è la creazione della formazione dell'identità dei nostri bambini e delle nostre bambine purtroppo qualche volta violenza diretta anche nei confronti dei bambini seguendo i vari casi io mi faccio dare il monitoraggio praticamente settimanale da parte dei nostri servizi sociali con le segnalazioni del tribunale che sono comunque la punta dell'iceberg ne siamo consapevoli la situazione durante la pandemia è esplosa in maniera drammatica e questo è un dato di fatto purtroppo però e questo non va lasciato da parte c'è anche un tema di violenza domestica nei confronti della parte più fragile della nostra popolazione anziani persone con disabilità c'è un tema sul quale dovremmo iniziare a riflettere anche su questo e provare a mettere in campo anche lì tutti gli strumenti che possiamo mettere in campo per tutelare chi è più fragile e non ce la fa da solo ecco penso che su questo dovremmo avviare un'ulteriore riflessione importante perché dal monitoraggio che abbiamo purtroppo emergono anche anche queste situazioni ecco penso che con gli interventi diretti da un punto di vista sociale con un'azione forte di prevenzione e con messaggi culturali importanti in qualche maniera stiamo intraprendendo la strada giusta e lo vediamo nelle tante situazioni la reazione della nostra cittadinanza della nostra comunità è molto più forte oggi e dobbiamo continuare a lavorare su questa strada perché questo è fondamentale quindi realmente grazie grazie a tutti allora grazie all'assessore Afunaro io adesso passerei il testimone all'assessore albanese per anche a lei voglio dire un saluto una riflessione dall'equilibrio sì scusate il ritardo ma si sente penso di sì tanto ci si sente sono contenta che si faccia un altro momento e si continui con questi momenti di confronto e di riflessione perché il tema non appartiene né al mese di novembre né al giorno del 25 in particolare è qualche cosa che ci accompagna tutti i giorni ed è qualche cosa che forse in un percorso io credo anche personale oltre che istituzionale ciascuno di noi fa sia come individuo all'interno della propria famiglia all'interno della propria vita di relazione che poi come comunità e questo lo facciamo tutti quanti insieme come città come diciamo creando quella rete che poi è anche il sostegno che dovrebbe aiutare le vittime da un lato a sentirsi forti e non sole nel denunciare ma dall'altra parte io credo anche a fare quello che diceva Sara ossia riconoscere intorno a noi gli elementi della violenza questo è importante e quindi è importante farlo con il teatro con la poesia con le parole con il linguaggio perché poi la violenza ha tante forme e purtroppo io credo che chi è vittima di violenza a volte soprattutto nei piccoli non percepisca la differenza perché quello che tu non conosci e che non hai gli strumenti di codificare rischia di apparirti normale e di sembrarti poi e di riconoscerlo invece come una forma di violenza soltanto attraverso il confronto con l'altro quando forse sei più grande quando forse cominci a capire che esiste anche un modo diverso per vivere un modo diverso per affrontare le situazioni e lì io credo sia ancora più drammatico perché a un certo punto si sgretola tutto il tuo passato e dunque come dire l'episodio di violenza acuisce in quel momento e arriva all'apice diciamo della sua della sua potenza non soltanto fisica ma anche psicologica magari andando proprio a distruggere quello che è l'elemento diciamo l'elemento identitario che si è creato nel corso di una vita che quindi non si è sviluppata avendo un corretto modello ecco perché è così importante io credo parlarne affinché tutti possano avere in qualunque modo ci si arrivi no un'idea di che cosa sia la violenza perché descrivere la violenza a volte farlo anche nella sua crudezza è un elemento che ci aiuta a identificarla e a riconoscerla tutti perché le forme di violenza purtroppo sono varie e diverse chiaramente quelle che si manifestano sotto forma di reato come dire sono più drammatiche da un lato ma molto più semplici da riconoscere da quell'altro e quindi in quel senso le forze dell'ordine ma non soltanto le forze dell'ordine io penso anche contesti come la scuola contesti sociali riescono a intercettarle molto più difficile molto più strisciante è la violenza invece appunto domestica che si insinua magari senza raggiungere o ancora senza farsi riconoscere in quella forma così grave e manifesta che è quella del reato ed è questa quella che ci come dire ingaggia principalmente tutti quanti perché la possiamo incrociare in qualsiasi momento della vita io qui accanto a Beatrice fa l'insegnante io credo che il suo sia un ruolo essenziale sia un ruolo principale proprio nel riconoscere le forme di violenza perché un bambino che ha un comportamento diverso dagli altri non voglio banalizzare possono essere tante le ragioni però un dubbio lo fa venire e allora forse in quel momento la persona che lo riconosce un approfondimento un avvicinamento una maggiore attenzione per cercare di decifrare quel comportamento la deve avere e quindi sta a noi non soltanto avere la sensibilità ma io credo a questo punto anche la formazione perché io voglio parlare da un punto di vista non soltanto culturale è chiaro che c'è quello che diceva da ultimo Sara io lo condivido molto lo dicevo appunto anche ieri quando eravamo al compleanno di Artemisia diciamo alla festa di compleanno di Artemisia diciamo così sono 30 anni di attività che hanno determinato moltissimo in termini di civiltà e quindi a livello di comunità questo scatto culturale è stato possibile ed è sempre maggiore perché c'è un lavoro di tanti anni parliamo di Artemisia ma vedo anche altre associazioni presenti sono tante le realtà che lavorano in questo settore e quindi è grazie a questa quotidiana operatività che si è raggiunta una sorta di coscienza collettiva e di consapevolezza incredibilmente maggiore rispetto al passato e ogni anno sempre di più questo non è ancora abbastanza dal punto di vista culturale sicuramente ma faremo meglio perché anche la presenza in una giornata come oggi piovosa di sabato essere qui a parlare tra di noi vuol dire che c'è questo sentimento forte che ci anima e che ci lega dall'altra parte però forse a livello istituzionale bisogna anche impegnarci affinché ci sia una formazione io parlo proprio di formazione specifica perché non tutti hanno una formazione psicologica o magari come posso dire proprio professionale da questo punto di vista per parlare per affrontare la violenza ma tutti quanti noi in realtà in un ruolo come quello dell'insegnante in un ruolo come può essere quello sanitario a vari livelli le forze di polizia penso anche alla polizia municipale che ha un reparto dedicato alla violenza di genere al contrasto alla violenza sulle donne possono incrociare situazioni in cui devono saper riconoscere devono sapersi diciamo interrogare sapere individuare se quel dubbio è un dubbio concreto e quindi fare quel passaggio in più per approfondire per aiutare eventualmente quella vittima a denunciare o a essere aiutata e sostenuta perché diventa essenziale quindi è un tema di cui si deve parlare e confrontarsi sul piano culturale perché il passo avanti di civiltà o lo facciamo tutti insieme oppure non è qualche cosa che si fa da soli certo ognuno di noi ripeto può essere testimone e in qualche modo anche portatore portatore sano della cultura del rispetto e lo deve essere io credo e questo è sicuramente un elemento essenziale dopodiché però c'è anche un tema di comunità e istituzionale che ci deve dotare soprattutto in alcuni ruoli in alcune professioni degli strumenti adatti poi a mettere in contatto magari quella persona quella vittima quel bambino quella famiglia con il professionista che chiaramente può fare il passaggio ulteriore e come dire aiutare a uscire da quel contesto di violenza ma se perdiamo quel tratto ecco che c'è il sommerso ecco che a quel punto il lockdown o qualsiasi altra situazione che ti chiude in casa diventa ancora più disperante della realtà che stavi vivendo prima perché sei ancora più solo più chiuso e più oppresso in un contesto che diventa una prigione ecco e quindi in questo senso io credo che sia importante anche a livello istituzionale scommettere su questo tipo di formazione quindi parlarne ma anche investire economicamente io penso a quello che può fare uno Stato una regione insomma sui fondi da dedicare al contrasto alla violenza di genere che sicuramente si devono diciamo devono essere indirizzati a creare le strutture adatte all'accoglienza ai servizi che vengono gestiti anche tramite l'assessorato di Sara Funaro appunto quindi i servizi sociali il welfare eccetera ma però io credo che si debba anche investire in formazione perché pari opportunità implica anche la necessità di saperle praticare e affrontare in un ambito preventivo e nella prevenzione ci deve essere anche la formazione di chi quella violenza la può intercettare allo Stato embrionale o magari in uno Stato che non è ancora deflagrato in maniera come posso dire esasperata e forse a quel punto come dire non voglio dire più difficile da recuperare direi una cosa sbagliata intendo dire che a quel punto diventa necessario un intervento professionale a più livelli che può determinare anche la necessità di un'accoglienza la necessità di un percorso più lungo e di un tipo di intervento se ne parlava anche con Petra qualche tempo fa di un intervento più qualificato perché questo era anche un dato che raccoglievo rispetto all'esperienza dell'ultimo anno di Artemisia ossia che al di là del numero dei casi che purtroppo sono in un trend più o meno costante rispetto al passato è la complessità e la difficoltà degli interventi che vengono messi in campo che ha caratterizzato questo anno rispetto all'anno precedente e io credo che quindi in questo senso la prevenzione debba essere messa in campo su più fronti e quello della formazione anche di altre categorie che intercettano la violenza in una fase precedente sia determinante e da qui mi sposto direttamente a quello che appunto diceva anche Sara ossia la fase successiva tralasciando diciamo quella centrale che è quella dei servizi che è quella del reinserimento quella del recupero quella della ripartenza diciamo per cui di fatto ecco dunque che sempre in termini di investimento io credo che un'istituzione nazionale regionale locale debba adoperarsi al massimo per collaborare con tutte le realtà associative del terzo settore di servizio che lavorano al recupero della violenza però poi restituire anche a quella persona non soltanto la dignità di lavorare ma la possibilità di riprendere una vita di ricominciare e senza nascondersi dietro un dito chi non lavora e quindi non ha un'indipendenza economica non soltanto ha un freno enorme nel denunciare perché si sente mancare il terreno sotto i piedi e quindi forse addirittura può paradossalmente trovare una zona diciamo di tolleranza di resilienza in cui in qualche modo resiste alla violenza pur di non perdere una situazione di serenità economica e di certezza per sé e per i propri figli che poi io credo sia un tema che crucia moltissimo chi in quel momento vorrebbe liberarsi dalla violenza ma non pensa solo a sé e al proprio benessere ma pensa anche forse in maniera ripeto condizionata da un contesto distorto anche a quello che si può offrire senza garanzie economiche a un figlio che esce da una famiglia in cui ha magari appunto il tetto sulla testa la sua cameretta poi tralasciando magari tutto quello che subisce indirettamente quindi forse in quel momento non riuscendo a dare abbastanza importanza al danno che si subisce vedendola la violenza sulla madre però ecco il contesto economico e la sicurezza di poter avere una prospettiva di indipendenza è parte integrante di questo percorso dalla denuncia fino poi ovviamente al reinserimento quindi io credo che ci si debba concentrare sul come riconoscere la violenza e lo si debba fare con situazioni che possono raccontarla ripeto teatro poesia linguaggio sono sicuramente strumenti e veicoli importanti a questo però io credo che le istituzioni debbano affiancare una formazione una formazione per categorie che non sono necessariamente quelle professionali dedicate ma tutte quelle che possono nella società incrociare questi fenomeni a cui poi si deve unire per fare necessariamente il passaggio finale un investimento sulla possibilità di restituire percorsi di autonomia anche economica a chi deve ricominciare da sé cioè in questo senso non da sé da sola ma da sé stessa sono io il punto di inizio della mia nuova vita e della nuova vita dei miei figli e posso credere in me stessa nelle mie capacità se sono sostenuta oltre che psicologicamente anche dalla tranquillità di valere e il lavoro si sa che dà dignità a tutti noi oltre a dare da mangiare e quindi rappresenta un altro elemento che non dobbiamo trascurare se vogliamo parlare veramente di contrasto alla violenza di genere potendo guardare l'arco completo e quindi costruire davvero un percorso che possa essere di dignità e di indipendenza e di ripartenza da sé stesse per ogni donna che purtroppo ancora oggi è drammaticamente vittima di violenza benissimo allora ora passiamo la parola alla Maria Grazia Anatra autrice insegnante e presidente dell'associazione Woman to be l'assessora albanese ci ha parlato di quella che è la formazione e di quello che è il ruolo anche di altre persone all'interno di quella che è un combattere quella che è la violenza domestica io sono insegnante e mi permetto di iniziare con una riflessione per poi sviluppare il tema e spesso i bambini che subiscono all'interno di una famiglia insomma di una casa la violenza domestica disimparano a parlare cioè quando arrivano alle scuole primarie sono bravissimi semmai anche nel rendimento scolastico quando hanno intelligenze accese vivaci o cercano di uscire da altri binari ma non si aprono mai su quelle che sono le problematiche all'interno della della casa perché si creano dei muri di paura che non allora io penso che uno dei compiti più importanti degli insegnanti sia quello della dell'osservazione dell'ascolto dell'attenzione al fine di entrare in una comunicazione profonda e capire quello che è il bambino anche da dei gesti per poi riabilitarlo a quella che è la parola e l'esternazione perché spesso questi bambini poi si trascinano dei traumi che ripercuotano anche nella loro vita poi da adulti quindi come possiamo aiutarli in questo percorso che ruolo può avere la scuola e che relazione si può creare fra le famiglie gli insegnanti al fine di recuperare anche quella che è poi la mamma che subisce perché spesso a noi è capitato anche questo che grazie al bambino poi riusciamo a far esternare il problema anche alla madre allora io mi presento mi sono già stata presentata ringrazio Donata perché è stata lei a chiamarmi e prima di come dire di esternare a mio parere il valore di testi come questi che porto voglio parlare della mia esperienza di come è nata questo mio avvicinamento al tema della violenza assistita io non ne sapevo non conoscevo neanche il significato per cui mi chiedevo forse 5 o 6 anni fa ma assistita in che senso assistita che viene supportata o assistita perché qualcuno assiste allora è nato così questo mio incontro per cui preferisco come dire proporre l'esperienza che è stata la mia no? perché poi mi sono scontrata con situazioni che vi faranno comprendere quanta difficoltà c'è ad andare avanti su questa strada l'incontro con la violenza assistita è stato a Strasburgo perché stavamo premiando la vincitrice di un premio che si chiama Narrare la parità e a Strasburgo nel lontano 2016 ho incontrato un giovane uomo un giovane uomo che è Stefano Montanari che poi parteciperà al testo di cui sai che è portavoce del presidente della commissione europea diritti umani e si chiama Stefano Montanari e allora vabbè a Strasburgo io non lo conoscevo lui era venuto apposta per vedere questo premio italiano presentato all'Istituto Italiano di Cultura e vabbè abbiamo fatto amicizia e lui mi ha detto guarda noi stiamo lavorando tantissimo sul tema della violenza assistita io sto anche perché anche lui scrive cominciando a scrivere qualcosa ma sai com'è difficile beh a me questa cosa mi è entrata nell'orecchio come dire violenza assistita era un mondo che non conoscevo che ho cominciato ho cercato di conoscere un po' di più io scrivevo già per bambini perché vabbè io ho collaborato per anni con PM con Battella Vapore per cui vabbè il mondo della letteratura per ragazzi era un po' il mio mondo sono andata a cercare tornando in Italia chi aveva scritto sui temi della violenza assistita pressoché nessuno in Italia l'unico testo che sono riuscita a trovare è quello di Emanuela Nava Cartuse edizioni Piccolo orso scopre l'aurora dove nemmeno il contesto umano viene utilizzato è un contesto animale sono gli orsi vi rendete conto? cioè fa talmente paura parlare di queste tematiche che insomma tra gli umani non se ne deve parlare forse ma con metafore veramente poco significative a mio giudizio se ne parla in un contesto animale Emanuela Nava è molto brava certamente come dire non è non è semplice parlare di queste tematiche e dunque che cosa è nata? è nata una scommessa cioè io sono un insegnante una donna di scuola insegno ai grandi ma mi sono a quel punto quando cominciavo a capirne di più mi sono messa a studiare io mi sono messa a studiare i test di Cancrini della Luberti Grappolini della Marinella Malacrea cioè per una che vuole scrivere una storia visto che ce n'è un bisogno incredibile e si tratta di raccontare storie non di fantasia ma verosimili per me era importante trovare qualcuno che mi potesse supportare a livello di conoscenze specialistiche cioè non era non si trattava di raccontare una storia così inventata dalla sottoscritta e allora vabbè c'è stato l'incontro con il centro Luna io sono della provincia di Rucca con Silvia Mammini che è la psicologa e così e insieme beh lei mi ha dato una bella mano abbiamo scritto ho scritto un testo che è questo possiamo tenerlo con noi tra l'altro selezionato da Amnesty International e tradotto in lingua araba per un progetto contro la violenza in Marocco io mi sono chiesta ah in Marocco come se in Italia fossimo già come dire talmente avanzati che giusto il Marocco ha bisogno di queste cose è ironico vabbè comunque è stato un testo importante basico in che senso basico nel senso che io ne sapevo abbastanza poco e consultandomi con Silve con altre persone chiaramente che ne sapevano più di me l'urgenza e l'obiettivo del testo era quello come diceva prima l'assessora di provare a convincere convincere forse un verbo che non è tanto adeguato provare a a cercare di far parlare questi bambini e queste bambine a farli aprire se ne può parlare ne voglio parlare infatti questo testo si ferma lì possiamo tenerlo con voi con noi è una domanda che è chiaro è nel libro è nel testo e si parla di un gattino questi due bambini salvano da da un bidone d'acqua gelata un gattino e questo gattino si affeziona a loro due e loro vogliono portarlo a casa e la chiedono alla mamma possiamo tenerlo con noi questi erano due bambini che avevano questo grosso problema e all'inizio si capisce benissimo attenzione quando io ho proposto questo testo non ci sono andata io l'assessora Ilaria Vieti forse la conosci del comune di Lucca mi ha detto perché non vai a parlare con la dirigente della scuola XY eravamo proprio agli inizi stava stava essendo stava 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 nascendo questo testo e lei mi ha detto è bellissimo l'ha letto pure in pdf perché ancora non c'era la pubblicazione è bellissimo non siamo purtroppo pronti o pronte io mi sono chiesta quante donne devono essere uccise per essere pronti a portare in una classe questo testo dove come potete vedere non è che ci sono dei papà con l'accetta certo si capisce benissimo che cosa succede ed è anche volutamente si è cercato anche di creare vedete questi toni questi colori così tenui che a vederlo dice ah qui si parla di gatti no? come dire con tutte le cautele possibili ci siamo andati ok? dunque questo è come dire ha cominciato a fare un pochino di a entrare nella scuola con grande sempre con grande difficoltà pubblicato finanziato dal comune di Lucca dal dal Rotary dove all'interno del Rotary di Lucca ci sono molti pediatri uomini che sono venuti alla presentazione e che sapevano di che cosa si stava parlando e hanno capito benissimo perché avevano avuto situazioni particolari per dire a quel punto quanto più io vedevo la difficoltà di proporre questi testi perché erano come dire testi pericolosi quasi non se ne deve parlare è troppo non siamo pronti è chiaro che allora io sono un tipo che se mi mettono gli ostacoli davanti è la volta che proprio voglio andare avanti no? e e vabbè è nato un altro testo questo qui la bambina in realtà in ordine cronologico non è nata questa è nata la stanza dei delfini comunque è nato questo testo la bambina che aveva parole e proprio perché giustamente l'assessora parlava di finanziamenti economici io vi faccio vedere da che è stato finanziato interamente questo testo dalla regione Emilia Romagna città metropolitana di Bologna Unione Reno Galliera sono comuni dell'Emilia Romagna e questo testo è andato a finire in più di cento classi della provincia di Bologna e due settimane fa ero in una scuola di Bologna abbiamo letto integralmente questo testo a bambini della quarta elementare e a un certo punto un bambino ha detto maestra ma io allora andrò via andrò anch'io via dalla mia famiglia perché qui si parla di una bambina che non sta più in famiglia è stata affidata alla zia per ovvi motivi e vabbè dice perché eh sì perché i miei genitori e non ha detto niente allora il compagno di banco fa vabbè ma insomma avranno litigato i tuoi genitori anch'io continuavo a dire ma insomma sei un amica sempre che un che un bambino deve essere è allontanato dalla famiglia è chiaro ci possono essere diverbie e cose lui fa no no ma non è che litigano si picchiano picchiano insomma è venuta fuori le maestre quarta elementare conoscevano questo bambino dalla prima elementare poi alla fine gli hanno detto noi siamo cascate dal pero cioè questo bambino noi abbiamo mai saputo nulla di questo perché poi anche nel finale della storia lui ha fatto questo scenno perché io parlavo di come ci si sente no quando e lui ha detto beh anch'io allora che cosa servono a queste storie che siano le mie non importi io non vengo qui per pubblicizzare i miei testi cioè non è non è quello credetemi io vengo qui per pubblicizzare testi che ci devono essere miei non miei anzi io spererei di altre persone come strumenti per entrarci per esempio nelle classi perché una narrazione come dire quando un bambino vede una narrazione beh non è la sua storia c'è la distanza di sicurezza per cui si legge una storia che non è la tua però certo assomiglia per certi aspetti in qualche situazione alla tua come ha detto quel bambino ma allora anch'io devo andare via dalla mia famiglia beh allora si comincia a incrinare qualche incrinare nel senso incrinare il silenzio perché se ne può cominciare a parlare come dire ah allora se ci fanno anche dei testi vuol dire che io ne posso anche parlare eh la mente del bambino funziona così vi rendete conto ecco io io credo questo venendo dal mondo della scuola ed essendomi poi incontrata perché oltre poi all'associazione luna beh incontrato parlato parecchio anche con Donata e mi sono rivolta poi a un centro specializzato che è il consultorio integrato e familiare integrato dell'ospedale Santi Paolo e Carlo di Milano e ho conosciuto due donne veramente incredibili sono due psicoterapeute Annalisa Vicari che ha scritto anche Tutelandia per Ericsson è un balloppo di schede di utilizzo con i bambini eccetera e Simona Agosti e con le quali stiamo facendo un percorso insieme cioè a dire io presto le mie capacità voglia di narrare perché credo che sia utile io ho bisogno detta proprio chiaramente di professionisti professioniste perché non posso raccontare delle fantasie io devo raccontare qualcosa di utile cioè come dire deve servire allora questo testo che poi uscirà a maggio la stanza dei delfini è nato allo stesso modo perché perché mi sono mi stavo leggendo un contributo di Simona Agosti sulla violenza e lei e lei parla di una di uno spazio libero di un posto di sicurezza dove il bambino o la bambina possa dire quello che le sta capitando che sia come dire un posto al sicuro dove la casa non è un posto al sicuro molto spesso ma ci deve essere un posto al sicuro ecco la stanza dei delfini a me è venuta in mente insomma poi avrà una parete piena di pesci di delfini eccetera prendendo spunto da un contributo di una persona che da anni ha a che fare con la violenza assistita per cui dico chi scrive che sia io che sia un'altra persona è chiaro che deve mediare molto e si deve fare aiutare da quella che è la realtà però ecco un'altra cosa che volevo dire a mio parere più questi testi va benissimo se vengono usati nei centri non lo so nei consultori nei centri antiviolenza ma io credo che nella misura in cui arrivano al grande pubblico non ai posti non a posti luoghi circoscritti davvero come diceva l'assessora noi raggiungiamo la meta il traguardo di fare apparire queste cose che accadono talmente gravi talmente repellenti talmente devastanti per le conseguenze che hanno qui come giustamente parlava ieri Marinella Malacrea a volte ci sono i psicoterapeuti che non credono a quello che raccontano i bambini tanto è l'orrore allora non è non è semplicemente sì vabbè ma poi i bambini dimenticano non si dimenticano queste ferite sono indelebili allora il guasto l'enormità si fa all'ennesima potenza magari non ci se ne rende nemmeno conto ma nella misura in cui la maggioranza delle persone vedranno una cosa del genere come blasfema eh si comincerà a raggiungere la meta cioè non devono essere usati nei posti dove di cura come dire ah solo lì perché il resto non si può contaminare eh no a mio parere è proprio l'esatto contrario nella misura in cui tu abbracci e coinvolgi il maggior numero di persone nella scuola sicuramente è un obiettivo importantissimo Carla Garlatti l'8 marzo dell'anno scorso Carla Garlatti è la garante la neo garante infanzia e adolescenza ha parlato della necessità di parlare di violenza assistita nella scuola quando io mi trovo la dirigente che mi dice non siamo pronti quando dobbiamo essere pronti a che gioco giochiamo eh allora io qui sono venuta a parlare con questi testi come strumento e mi auguro che oltre a me ci siano altre persone che possano continuare a scrivere perché qui siamo noi ci puntiamo sulle dita non di due mani di una mano perché perché poi le case editrici hanno anche paura ma scusate ma io devo pubblicare un testo di questo tipo che mi costa anche un sacco di soldi questo è illustrato dalla Maria dalla Maria Sole scusate Maria Luce Possentini che è una delle premio Anders del 2019 una delle illustratrici più brave in Italia ci devo spendere un sacco e chi me ne compra chi cioè poi c'è anche questo no sono rari sono difficili sono testi difficili bisogna farci i conti con questi testi difficili altrimenti si continuerà a stare con la con la testa della sabbia e a dire non siamo ancora pronti io potrei continuare ma no perché sono una grande chiacchierona ma credo di aver detto quello che proprio mi stava qua e che per esperienza diretta davvero ho incontrato e se può essere utile grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Io sono qui perché l'amorozzi mi ha telefonato dicendogli che non riesco a fare questo e non è che mi ci vai te? E io rispetto di sì. Vi racconto una parte dello show che solitamente non si dice, queste sono cose che non si dicono e invece ve la voglio raccontare perché secondo me è una testimonianza di sorellanza attiva. Di noi donne perse nel fare che a un certo punto dicono non è che sì, certo che sì e da un punto di vista anche valoriale laddove c'è Daniela ci posso essere io, laddove ci sono io ci può essere Daniela. Con Manuel abbiamo creato questo carion di voci che vi vorrei fare ascoltare e che fa così. Ma a che tal si diventa vecchio e di preciso? No ma questo va troppo bene, questo dopo un po' mi lascia. Ma senti questa che pretese, due ore in più gratis. Va bene allora resto ancora un po'. Ma se mi faccio tirare qua e dimostro dieci anni meno. Dopo lo ritrovo un lavoro? No, è che lui non è violento, è solo che qualche volta perde la pazienza e alza le mani. E come faccio a tenere? Come si mantiene? No raga, quest'anno non mi faccio mettere in costume. Sto veramente un certo vista da dietro. Dica a me, guardi non sono l'infermiera, sono il chirurgo. Mio marito, io non so neanche dove li vengo ai detertivi. Poi c'era questa finestra aperta, non l'ho vista e ho sbattito l'occhio. Mamma, mi hanno detto che non vado bene. Perché con Manuela abbiamo deciso di presentarvi questo carillon di voci? Perché sono frasi insospettabili, quotidiane. In questa ricorrenza orribile, che è la giornata contro la violenza sulle donne, mi auguro e spero che tra dieci anni ci sia tutti a mangiare un piatto di grippa e a dire ma ti ricordi quando c'era quella giornata dove si doveva ricordare le donne in un tuo video? Ah è lontana, ecco mi auguro che possa avvenire questo tra un po' di anni, perché se no se siamo veramente all'interno di un San Valentino al contrario, in cui in quel giorno ripercorriamo tutti gli orrori. E mi sono accorta, da addetta ai lavori, che gli orrori dei quali parliamo sono sempre finali. Il babbo con la cetta, parlo da un punto di vista di rappresentazione teatrale, di linguaggio violento nella cultura dello spettacolo. Le letture che andiamo a fare sono sempre legate a questi orchi terrificanti e non vorrei che ci cadessi in un piccolo equivoco, quello poi di allontanarsi da questi luoghi di cultura in cui si parla del fatto accaduto e scatenante e pensare, no vabbè ma io a casa non ho metà orchi, non mi facette, nessuno mi ha mai messo in un'altra cosa. Le frati che noi abbiamo deciso sono frati insospettabili, questa violenza indivisibile che proteggia sempre, cioè nei nostri domicili, che secondo me nel nostro è nell'appartamento accanto. E dovremmo cercare, a mio avviso, di fare attenzione insieme. E allora, da un punto di vista assoriale, io credo che ci sia una violenza indivisibile che stanno i modelli di rappresentazione del femminile, per i quali noi andiamo a stare, nella televisione, nella pubblicità e nel film. Nanni Moretti diceva, le parole sono importanti, sì, e io da finito posso dire anche i modelli di rappresentazione del femminile. Faccio un gioco con voi, vi parlo di una pellicola media italiana. Cinema italiano, perché si torna al nostro paese, che mi sembra carente nella narrativa per ragazzi, ma anche nel cinema, sulla rappresentazione del femminile, non ce la capiamo, eh? Benissimo. Allora, la pellicola media cinematografica italiana più o meno è così. Abbiamo la protagonista femminile che sta tra i 30 e i 40 anni, o è sottopeso o è bellissima, ed è una finta sfidata. Così discute del suo cuore solitario e beve del twining dalla finestra con le calcazioni di lana da finta sfidata. Accanto a lei, la vicina di casa, intelligente, lei ha veramente sempre la risposta pronta, ed è pronta ad aiutarla sempre. Intelligente, che pesa a 190 kg. Ora noi, tra queste due estremità, ci saremmo tutti. Ci sono le mamme che hanno appassionatamente salutato gli addominali bassi per un cesareo, ci sono i 50 anni che ho il culo grosso, ma con le tette piccole, ci sono le donne che hanno detto, ma io ho il botto, sai cosa, non me lo faccio, vorrei continuare ad avere delle rughe di espressione. Ci siamo tutte noi in mezzo a questi due estremi, ma puntualmente non veniamo rappresentate. Vi faccio altri esempi. Se io sono un cazzo indirettore e ho bisogno di un babbo di 50 anni, Enrico ha 50 anni e è fuori dalla scuola di suo figlio, prenderò un attore di 50 anni. Ma se io ho bisogno di una mamma di 50 anni, Marika si danna dietro il suo figlio, prenderò un'attrice di 40, che interpreta Marika che ne ha 50. Ora io mi domando, ma come ci si sente a essere rappresentate per la propria età anagrafica sempre da un attore che ha 10 anni dove di noi? E perché questa è una roba che riguarda soltanto il femminile? Perché le nonne o sono delle macchette stereotipate, oppure sono delle super sope imperiali, in questo linguaggio, in equilibrio su dei tacchi che io già non ho più la pazienza di portare a 40 anni. Perché il modello femminile rappresentato deve sempre stare o nella seduzione estrema o nell'accudimento ormai ultraottantenne. Dove siamo? Io faccio l'attrice da 15 anni e le mie platee sono per lo più rappresentate da un pubblico femminile. Io penso che abbiamo diritto di avere una ricchezza narrativa diversa, di sentirci accolte e rappresentate per quelle che siamo, con la nostra cellulite, con i nostri fianchi larghi, perché i personaggi in sovrappeso, obesi, non sono mai protagonisti delle storie che noi vediamo, nella televisione, nel cinema, sono sempre questi personaggi collaterali, famelici, ironici, estremamente ganzi, ma mai protagonisti della storia. Io vorrei raccontare un piccolo episodio che ho vissuto sul set di una pubblicità per bambini, mi avevano scelto in foto, avevo 30 anni, quindi 10 rispetto a quelli che ho oggi, e arrivo sul set. Dovevo fare la mamma a questo bambino di 11 anni. Io a 30 anni esco, il regista mi vede e fa chi è sta vecchia? A quel punto, oltre ovviamente a flagellarmi l'autostima che sembrava un colabrodo, ho iniziato a pensare scusate ma di solito cioè per un bambino di 11 anni la mamma quanti anni ha? 25. No, scusate, no, ma ero dimenticata che in Italia si fattorisce il primo figlio a 14 anni. Ho fatto confusione io. Allora dico, forse dobbiamo ripartire per quella che è la mia responsabilità specifica, ovviamente io mi occupo del mio ambito, da un concetto un po' fastidioso che la rappresentazione del femminile nel mondo dello spettacolo col quale io ho a che fare ogni giorno è un'invenzione maschile. dovremmo riapproci di modelli all'interno dei quali ci sentiamo finalmente rappresentate perché altrimenti non stiamo proprio benino. Grazie. Sì, è acceso. È acceso. Bene, allora grazie davvero a Gaia Nanni per questa, in realtà, mi direi calata molto profonda in quello che effettivamente è il tema di come si costruisce l'immaginario e quanto poi si riesce a trovare anche uno specchio di se stessi oppure no e quindi poi ci si sente escluse, no? Sostanzialmente perché non rappresentate. E quanto questo è anche devastante, se vogliamo, poi per i ragazzi e per le ragazze in particolare. Adesso, grazie ancora per questa sorellanza che ti ha portato qui da noi, passerei la parola a Valentina Sessa per l'ultimo intervento di questa prima sessione, diciamo, del nostro incontro per partire con un viaggio sulla poesia. Grazie. Salve a tutti. Dunque, io porto qui la mia esperienza, diciamo, come scrittrice, tra virgolette, perché ancora, insomma, sono ai primi all'inizio, di poesie. in realtà le scrivo da da quando avevo meno di 15 anni, penso 12-13 anni. Ho cominciato a scrivere, si sente l'esigenza di scrivere perché abbiamo un flusso di parole dentro che rimangono chiuse e che non sappiamo nemmeno noi che senso possono avere. a volte si butta giù, lo faccio ancora, si butta giù le parole senza pensare a che cosa significano veramente per poi scoprire il nostro stato attuale emotivo perché quello che abbiamo dentro in quel momento e che buttiamo giù è un po' il quadro della situazione. naturalmente non è non è facile all'inizio almeno per me non lo è stato per i primi tempi capire da quello che scrivevo cos'era che che non andava però intanto lo scrivere il continuare a scrivere piano piano mi ha fatto capire uno che mi piace scrivere ed è forse l'unico ambiente dove non mi sento un pesce fuor d'acqua e due che questo scrivere può aiutare oltre a me anche altre persone appunto a sentirsi accolte a sentirsi comprese a sentirsi meno sole in un viaggio in cui tutti siamo soli e ognuno si chiede se è l'unico a provare certe sensazioni e invece molto spesso scopriamo che siamo tanti a provare le stesse sensazioni magari reagire in modi socialmente diversi ma comunque a provare appunto queste sensazioni io non vi voglio prendere troppo tempo perché non sono un'oratrice vengo anche dopo un'attrice quindi non è molto favorevole la cosa e ho scelto due poesie dalla mia raccolta perché ritengo che siano più attinenti ecco al tema una appunto quella che ho mandato a donata quando volevo provare appunto a leggere questa poesia anche in un contesto che è forse quello più adatto a questa poesia allora la poesia si chiama dentro aperta come notte su di te come fiume in te riversa affogata e morta asciutta ad ogni piacere svuotata pulita e riempita di carta da giornale chiudo gli occhi sorrido pago il conto dunque questa poesia è stata scritta diverso tempo fa diversi anni fa diciamo che penso si capisca un po' cos'è che vuole dire a volte ci sentiamo noi donne un po' un involucro che non è più padrone del materiale per cui di cui era fatto ma riempito di qualcosa che non lo rappresenta per dovere per per essere per essere alla all'altezza di un uomo di un padre di una società si paga il conto si paga non spesso non di rado non funziona il gioco con il giornale dentro e la donna rimane svuotata si rimane senza un'identità e si rimane senza 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 le proprie radici non so se mi sono spiegata bene perché naturalmente in questa poesia c'è tanto di me quindi non mi è tanto facile spiegarla le poesie si buttano lì e poi gli altri possono giustamente prenderne quello che vogliono tutti i pezzetti che vogliono e capire cosa comprendere cosa più gli appartiene un'altra poesia che ho scritto che mi sembra adatta ecco a questa serata è anche il titolo del libro alle cose non dette naturalmente insomma a ognuno di noi ne ha tante specialmente le donne sì grazie questa è la prima pagina che trovo meglio ok grazie alle cose non dette alle cose non dette dentro di me ramificate fiorite nutrite del mio sangue seccate e poi morte e poi rinate dalla mia terra intiere foreste senza margine né confine silenzi che si sono mangiati anche un po' di me alle cose non dette chiedo scusa penso si capisca bene cosa significa questo appunto inerente a questa serata è molto è molto importante ci sono troppe cose che fin da piccoli riteniamo di non dover dire perché pensiamo innanzitutto di aver visto male e in seconda cosa di non essere ascoltati questo non per quanto riguarda io non non parlo non parlo almeno cioè personalmente non parlo assolutamente di esperienze di violenza nel vero senso della parola o di fatti ecco gravi diciamo che ci sono molti casi che io vorrei che tutti voi appunto vorrei pure alla vostra attenzione che sono la violenza psicologica intere donne e intere intere donne bambini tantissimi bambini e tantissime donne subiscono tutti i giorni violenza psicologica per quanto riguarda sia per quanto riguarda un bambino di più per quanto riguarda una donna non lo so forse ugualmente forse non di più forse ugualmente è difficile ma per un bambino insomma diciamo che se siamo nell'ambito di una di una di un cervello che sta crescendo tutto è più difficile la violenza psicologica è qualcosa di latente di subdolo di estremamente corrodente corrodente piano piano che poi fa arrivare a non capire cosa si diventa cosa si è e quali sono i punti di riferimento nel caso di una donna la violenza psicologica è sicuramente una schiavitù un modo di sentirsi appunto inutile inadatta alla società inadatta al proprio marito come un modello da scartare qualcosa di venuto di venuto male ora io vorrei collegarmi ora con questo a una poetessa del a cavallo con la seconda guerra mondiale che penso conosciate Silvia Platt è una donna che è vissuta 30 anni purtroppo una donna che ha avuto un padre che era una figura estremamente autoritaria lei parla di lui come una figura come un nazista come una scarpa nera come una una statua rigida immobile che invade tutto il mare tutto l'oceano da lì diciamo lei lo perde a 10 anni quindi nello stesso tempo c'è un dolore immenso comunque per la perdita di questo padre dopodiché lei ricerca un rapporto con un uomo che le dia quello che probabilmente non ha sentito mai sia per l'assenza sia per la figura del padre che ha avuto in quegli anni che è stata quella che è stata purtroppo non le va meglio e lei subisce violenza da questo uomo alla fine viene anche ha due figli alla fine del matrimonio appunto subisce delle violenze fisiche anche dopodiché lui se ne va con un'altra donna e lei finisce così diciamo la sua vita in realtà non è così che la finisce lei la finisce perché muore suicidandosi ma non voleva suicidarsi voleva semplicemente dire oh ci sono guardatemi chiedere aiuto in realtà ha sbagliato i tempi aveva lasciato anche il numero di telefono e doveva venire la babysitter delle bambine ma ha fatto ritardo e quindi purtroppo è andata così però ecco c'è solo ora ci sono tantissime poesie di lei che sono bellissime il suo linguaggio è bellissimo la sua visione della donna per quei tempi è bellissima perché è moderna perché lei parla di una donna che non è allora a quei tempi c'era ancora la figura patriarcale molto forte non che oggi sia molto diversa ma comunque diciamo è diverso e quindi lei invece parlava di una donna che era una donna che non doveva essere schiava né del marito né di un modello né nient'altro e qui è una poesia che scrive appunto proprio riguardo questo modello di donna una donna paragonata quasi a un vestito quasi a una bambola buosa in realtà è anche una poesia molto divertente anche se è divertente ma è molto drammatica nello stesso tempo allora punto primo lei è il tipo di persona che noi trattiamo a occhi di vetro brucia o dentiera protesi o uncino seni o inguini di gomma suture comprovanti asportazioni no no e cosa possiamo darle a queste condizioni basta piangere apra la mano vuota vuota ecco una mano per riempirla disposta a portare tazze di tè e fugare micranee e fare tutto quel che le dirà vuole sposarla con garanzia che le chiuderà gli occhi nel finale e si squaglierà di dolore rimpolperemo le scorte con quel sale lei è proprio nudo noto che gliene pare di questo vestito nero e stecchito ma non male vuole sposarlo è impermeabile infrangibile inattaccabile da fuoco e bombe in caduta libera mi creda ci si farà seppellire la testa ora mi scusi è vuota ho quel che ci vuole vieni qui zuccherino esci dall'armadio bene che ne pensa nuda come un pezzo di carta al momento ma in 25 anni sarà d'argento in 50 d'oro una bambola viva sotto ogni aspettativa basta cucire cucinare parlare 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 funziona non ha nessun pezzo rotto ha un buco è un cerotto ha un occhio è una visione ragazzo mio è la sua ultima occasione la vuole sposare? sì la vuole sposare? e con questo che penso sia abbastanza comprensibile a tutti io chiudo il mio intervento e vi ringrazio va grazie a Valentina perché ci ha permesso di vedere come attraverso le parole che si scarnificano pezzetto dopo pezzetto è possibile anche da voce a tante emozioni e attraverso le parole poi le bambine le donne devono provare a ricostruire un po' la loro vita quindi io ringrazio Maria Grazia Anatra per il suo lavoro anche di ricerca insostituibile rispetto alla necessità di una narrativa per l'infanzia che parli della realtà a Gaia Nanni perché penso che il teatro possa avere una funzione importante e quindi anche sostenere le donne che all'interno del teatro si ribellano a un immaginario precostituito e a Valentina perché la parola scritta è un'ancora anche per molte per molte donne ed è per molte donne anche un'ancora la parola che altre donne hanno scritto dando loro voce grazie allora adesso abbiamo un capovolgimento di ospiti abbiamo qui allora Imelda Zecchiri mediatrice culturale ma anche scrittrice associazione Nosotras Giovanna Melloni una coach che lavora con le donne ma anche voglio dire manager rispetto al tema della propria competenza e Petra Filistrucchi vicepresidente dell'associazione Artemisia che lavora da tantissimi anni con la parola per stare accanto a donne giovani uomini e bambini e bambini allora con con loro vogliamo provare a fare una diciamo ricerca un po' diversa ed è quella di una riflessione della parola come strada attraverso la quale avvicinarsi e ridare forza ridare senso di sé alle donne con Imelda Zecchiri che ho ascoltato leggere una poesia in albanese l'idea è anche l'idea del linguaggio madre quanto può essere importante la parola nella relazione con le altre donne grazie Donata allora intanto grazie per essere qui e per essere rimasti ad ascoltarci e come diceva Donata io sono nata in un contesto differente da quello di accoglienza quindi le mie origini sono albanesi ma sono praticamente cresciuta in Italia e prima di iniziare il mio intervento volevo dirvi solo due cose che sono capitate in questa settimana la prima lunedì pomeriggio ero a una riunione io sono abbastanza attiva nel campo del sociale e ero all'interno di un contesto di una redazione e a un certo si sente poco se forse c'è un po' di rumori allora provo ad alzare anche io un po' il tono di voce dicevo che lunedì pomeriggio ero all'interno di una redazione di un giornale e a un certo punto abbiamo buttato giù un elenco di argomenti che vogliamo trattare durante l'anno 2022 ed è venuto fuori subito il tema della violenza di genere a un certo punto il gruppo si è diviso perché una delle persone che era lì all'interno un uomo ha iniziato ad andare un po' in contrasto con alcune persone dicendo ma non è possibile che si debba sempre solo parlare di violenza nei confronti delle donne la violenza esiste anche nei confronti degli uomini però non se ne parla mai sembra quasi che sia solo una cosa unidirezionale il gruppo si è un po' diviso è rimasto tutto in sospeso anche se in realtà comunque è qualcosa sulla quale sarebbe importante riflettere il secondo punto proprio oggi prima di venire qui è una persona che conosco molto bene mi ha chiesto ma non ho capito cos'è che devi fare e gli ho raccontato che ero presente a un evento che trattava il tema della violenza di genere e mi risponde ancora? proprio all'inizio di questa giornata abbiamo detto quanto sia importante non inserire solo in una giornata un ricordo di quanto le persone subiscono violenze di ogni genere e che il 4 dicembre ma il 25 dicembre il 6 gennaio tutti i giorni sono importanti per parlarne perché purtroppo la violenza di genere esiste in tanti contesti abbiamo ascoltato poco fa le colleghe che parlavano di violenza assistita qualcosa di abbastanza complicato e difficile da sviluppare perché si parla di bambini e c'è quasi il timore di raccontare questo fatto come qualcosa che esiste per davvero e in realtà esiste e nel mio intervento vorrei parlarvi del fatto che esistiamo in un mondo cioè noi viviamo in un mondo che si chiama villaggio globale un mondo globalizzato dove tutto sembra unificato tutti abbiamo gli stessi diritti tutti possiamo avere le stesse opportunità e questo non è totalmente vero anche se questo è un processo inarrestabile la globalizzazione ha degli aspetti positivi ma allo stesso tempo ne ho parlato anche all'interno del mio saggio che è uscito da poco tempo si stanno perdendo tutte quelle che sono le sfumature delle varie realtà alcune persone si spostano perché hanno l'opportunità di farlo senza dover per forza ricorrere a dei mezzi che spogliano l'essere della sua dignità del suo valore e altri quindi sono costretti ad utilizzare una parte dei loro risparmi della loro esistenza lasciarla alle spalle e partire verso l'ignoto e io parlo molto di queste donne di donne che si trovano in un contesto differente da quello di nascita e che hanno la doppia difficoltà di farsi comprendere la prima perché spesso molte donne quando partono appunto utilizzano tutte quelle che sono le proprie risorse per cercare un futuro migliore quando arrivano sono spoglie di qualsiasi tipo di materia che sia il denaro ma anche un qualcosa che possa permettere loro di ricominciare di avere un futuro che sia abbastanza forte da poterle sostenere perché spesso non sono sole sono donne che si portano anche con sé una parte della loro esistenza che può essere un figlio più di un figlio un compagno un marito quindi un contesto anche abbastanza ampio si parla quasi sempre degli spostamenti che avvengono da parte di uomini ma esiste anche la migrazione femminile è una migrazione che spesso passa inosservata anche se è molto forte molto evidente sicuramente avrete sentito parlare qualche giorno fa di una donna che proviene proprio dal mio paese di nascita l'Albania che ha deciso di togliersi la vita perché nessuno la stava più ascoltando nessuno aveva più un orecchio disponibile a sentire qual era il suo bisogno questa donna ha avuto il coraggio di denunciare i suoi carnifici che hanno utilizzato il suo corpo Gaia diceva che spesso le donne sono rappresentate come dei corpi la loro funzione è un accessorio non hanno una rilevanza spesso le donne intelligenti appunto come leggiamo nei testi ma come i media ci trasmettono sono donne che devono essere belle punto spesso se sono intelligenti vengono rappresentate in una maniera differente e le donne spesso vengono utilizzate purtroppo per quanto riguarda l'Albania in un momento di passaggio da da un contesto dove esisteva solo il comunismo quindi non c'era la possibilità di poter parlare con l'esterno di vedere quello che c'era all'esterno spesso le donne ingannate da tutti quelli che erano le possibilità di un futuro migliore venivano poi portate all'estero come è successo tante di loro e hanno trovato qui in realtà il loro inferno e molti di loro hanno trovato il coraggio di ribellarsi a questo sistema e ce l'hanno fatta e altre invece purtroppo trascinate da questo vortice di inganni sono crollate e hanno deciso di abbandonare la sofferenza che ormai era diventata parte integrante della loro esistenza e quindi hanno optato forse per un futuro migliore da chissà dove se esiste un al di là e grazie a nosotras io sono entrata in contatto con tantissime donne di provenienze differenti e ho trovato una casa dove ci si sente accolte perché spesso le donne quando si spostano per motivi che non dipendono da loro quindi scelte avvenute da parte del marito o di un fratello o di un genitore sono donne che hanno già subito una violenza psicologica perché le hanno sradicate dal loro paese di nascita le hanno portate in un contesto che loro non conoscono sono donne che non hanno accesso all'aspetto linguistico quindi hanno difficoltà a comunicare a farsi capire e avendo questa resistenza quindi a iniziare anche a studiare a formarsi ad avere la possibilità di poter comprendere decidono di tenersi dentro spesso le loro sofferenze perché hanno paura di non farsi comprendere e soprattutto se accedono a un servizio che può essere quello di denuncia tramite il sistema di chiamata alla polizia o comunque ai centri antiviolenza hanno il timore di perdere anche quel poco che hanno acquisito ed ecco che ci sono alcuni spazi alcune strutture dove invece la donna si può sentire libera di poter comunicare a dire quello e dire quello che sente perché trova di fronte a sé qualcuno che viene dal suo contesto di origine qualcuno che può comprendere le sfumature di tutte quelle che sono le parole che magari traducendole non rendono nella lingua poi di destinazione e e quindi dentro questi contesti le donne si sentono libere di poter iniziare a raccontare una parte del loro vissuto delle loro emozioni sono donne che come dicevamo in un contesto abbastanza sviluppato come quello che conosciamo nel nostro territorio hanno comunque ancora oggi il timore di potersi esporre tanto dobbiamo solo immaginarci come si sentono invece le altre donne che arrivano da altri contesti culturali che hanno il timore di poter tirare fuori una parte di loro e io parlo di queste donne all'interno di due romanzi che ho pubblicato nel 2019 e nel 2020 uno di questi l'ho portato anche con me oggi è appunto il vestito rosso il rosso conosciamo bene ha una serie di significati ma poi ne ho parlato anche all'interno di un saggio che è Distance Sense Indagine Intrispaziale che è uscito da pochissimo e se mi permettete vorrei leggervi un capitolo di questo testo che parla appunto della violenza una violenza che riguarda tutte le donne non solo le donne che magari arrivano in un contesto migratorio inizia sempre in un modo non ci si può sbagliare eppure spesso è ben mascherato tanto da non essere immediatamente identificabile e da poter essere giustificato con il tempo una volta individuato emerge poco alla volta ma è sempre stato lì pronto a colpire anche le corazze più forti e dure non siamo sempre in grado di inquadrarlo in un'unica forma ma le varie sfaccettature sono le parti di quello stesso elemento la miserabile gestione delle vite altrui per ricaricare le pile della propria esistenza è forse il lato più ignobile che possiede l'essere umano eppure è all'ordine del giorno e gran parte delle persone rimane ingorbuliata in questa rete che uccide pian piano le forme di violenza non sono solo quelle fisiche come continua ancora ad accadere ma anche soprattutto le parole che mortificano e annullano il senso di unicità e individualità l'altro è sempre pronto a sminuire i gesti le azioni i contenuti dei pensieri che emergono tramite i suoni della voce di chi pian piano preferisce non esporsi per evitare di subire critiche e disapprovazione si preferisce non pensare alle negazioni alle offese alle limitazioni alle espressioni naturali del proprio io e ci si chiude noi stessi per non ricevere ulteriore violenza perché a un certo punto ci si stanca diminuisce la forza non si riesce ad opporsi a chi ci fa vivere continuamente nel malessere alla società che non vede il dolore alla famiglia che preferisce lasciare andare tutto così com'è per non societare scalcore e chiacchiericcio le vittime arrivano a pensare che si tratti di un momento che la situazione migliorerà che è normale ciò che subiscono vedono gli altri come degli outsiders troppo spudorati sfacciati svergognati a mostrarsi per ciò che sono perché spesso basta una gonna corta un tacco a spillo un rossetto troppo intenso un costume troppo sexy per scatenare alcuni processi mentali del carnifice pronto al colpire la prossima vittima ma non è così nessuno dovrebbe decidere per noi per la nostra vita il nostro corpo la nostra mente se l'individuo patologico non è in grado di accettare chi è accanto è necessario cogliere subito dei segnali negativi e lasciarla andare c'è sicuramente qualcuno più adatto ad accettarci con la nostra esuberanza e timidezza ad amarci per i nostri difetti fisici per le perplessità mentali c'è sempre una possibilità di vivere sereni e attirare chi merita la nostra presenza perché se siamo venuti al mondo dai nostri genitori nessuno ha il potere di toglierci la vita la pandemia ha aumentato in maniera esponenziale il rischio di finire vittima di un carnifice e i numeri purtroppo lo confermano la maggior parte di queste vittime sono donne perché sono quelle che provano in tutti i modi a cambiare il mondo anche al costo di farsi del male ma che pro il testo continua analizza anche altri fattori e a me piace molto stare in un contesto come quello di nosotras infatti sono contenta di rappresentare stasera soprattutto perché come dicevo è un è uno spazio dove le donne possono emergere e tirare fuori il potenziale che hanno dentro perché spesso quelle che vengono da contesti esterni vengono identificate come donne che hanno paura che non riescono a rinascere ma non è così è semplicemente il loro diciamo contesto dal quale sono partite che le ha limitate oppure le ha portate a pensare che avevano dei limiti in realtà pian piano scoprono di avere moltissimo dentro di sé che grazie alla parola quindi al confidarsi al parlare e ad avere qualcuno con il quale approcciarsi nella propria lingua madre sia fondamentale per iniziare un primo passo verso la rinascita grazie allora Beatrice è qui però poi dopo ecco una conclusione a te allora grazie per questa testimonianza di nuovo anche è interessante della lettura del libro come dire una parola che si costruisce nella relazione con altre donne ma anche che poi diventa oggetto di meditazione e di scrittura e quindi anche questa specie di ciclo continuo mi sembra che tu vive nella relazione e poi prende forma attraverso libri che possono anche aiutare delle donne a mettere in parola è interessante l'ultimo richiamo che tu facevi rispetto alla necessità di poi lavorare in una dimensione collettiva per far emergere come dire le intenzionalità e le determinazioni quindi lascerei la parola su questo a Giovanna tu avevi delle slide non so se le puoi dare adesso vediamo sì avevo portato una presentazione perché mi faceva piacere condividere con voi un progetto che riguarda appunto essenzialmente destinato alle donne in situazioni di fragilità e che ho promosso nella mia veste di coach io ho diciamo una prima formazione come interprete di conferenza ed è ancora il mio lavoro è stato il mio lavoro per tanti anni ma negli ultimi anni mi sono interessata molto alla crescita personale a cui sono approdata inizialmente perché mi interessava studiare meglio gli aspetti di comunicazione poi mi sono resa conto che avvicinarsi alla crescita personale è un po' come entrare in un negozio di ferramenta nel senso che quando ci si entra dentro ci si trova un po' di tutto dal tubo per riparare la vasca fino a la pozione magica per far crescere miracolosamente le piante e quindi mi interessava della crescita personale moltissimo questo aspetto di strumenti che fornisce che spesso rimangono limitati a un mondo abbastanza esclusivo diciamo di persone che intanto si possono permettere percorsi di coaching di formazione spesso a carissimo prezzo ma che in realtà appunto sono sempre loro insomma la cosa che a me interessava era capire che cosa c'era nella crescita personale di utile che si potesse anche portare fuori da quel mondo e per questo mi sono messa a studiare ho indagato nel negozio di ferramenta ho trovato degli strumenti che secondo me potevano essere utili inizialmente per me per la mia storia ma poi anche e questa è la fase di passaggio interessante eventualmente per altri e ho pensato che questi strumenti potessero essere interessanti anche da proporre inizialmente diciamo a un pubblico abbastanza ampio di persone che sono come dico io in situazioni di fragilità poi ora ringrazio per questo donato siamo qui a parlare di persone che sono che escono da situazioni di violenza quindi è ancora un ulteriore passaggio interessante da esplorare da conoscere gli strumenti di crescita personale penso che possano essere utili non certo in una fase traumatica o immediatamente post traumatica ma in un successivo step che ci auguriamo tutti che ci sia nella vita di queste persone che è quello della ricostruzione si parlava prima di passare a una fase di ricostruzione qualcuno ha parlato proprio di bisogno di trovare qualcosa di utile che si possa utilizzare per ricostruirsi vengo quindi a questo progetto che vi presento ma soprattutto con l'idea di condividerlo con voi che è un progetto che insieme a un'amica ho presentato nel festival dell'eredità delle donne e che quindi è stato realizzato nel programma off dell'eredità delle donne che è un laboratorio destinato appunto alle donne che abbiamo voluto intitolare volere volare farsi valere con un titolo un po' ironico un po' fintamente pretenzioso ma l'idea era partire da una storia di resistenza di coraggio che è quella appunto della persona che ha concepito questo laboratorio insieme a me che si chiama Silvia Venturi e che lavora in un negozio di dischi a Firenze e che è riuscita miracolosamente a far sopravvivere un negozio di dischi in un tempo in cui non solo non si comprano più dischi ma non ci sono più quasi neanche i negozi quindi partire dalla sua storia e con quel pretesto presentare questa è la parte che nel laboratorio faccio io degli strumenti cosiddetti di crescita personale che secondo me possono essere utili da mettere in campo ma da sperimentare poi la cosa che per me è un po' difficile adesso è spiegarvi teoricamente delle cose che poi in realtà sono molto pratiche per fare cosa per rafforzarsi ricostruirti partendo da una situazione di fragilità l'ho fatta un po' troppo lunga comunque Andrea mi passaresti quella dopo per favore il laboratorio è un po' diciamo una mia ispirazione poetica usando parole di qualcun altro sono queste parole di Camus che dice in mezzo all'inverno ho scoperto in me un'invincibile estate di questa frase che poi da cui ognuno potrà attrarre quello che vuole spero che ispiri voi quanto ispira me i passaggi che a me sembrano interessanti è la presenza dell'inverno cioè l'inverno resta io ci sono dentro non cerco di andare da un'altra parte mi piace molto il senso della scoperta perché la scoperta può essere il risultato di una ricerca e mi piace molto che l'estate sia invincibile per motivi che lascia ognuno di voi il compito di interpretare il prossimo allora adesso mi piacerebbe parlare di alcune parole che sono un po' le parole di questo incontro e sono parole su cui appunto nella crescita personale si ragiona cercando poi di estrarne degli strumenti quindi la fragilità la forza Donata mi invita a parlare di come utilizzare le parole per dare forza che poi è un po' quello che appunto si può fare nella crescita personale e nel coaching che non è nient'altro che un momento in cui una persona che ha bisogno di un aiuto in genere pratico per realizzare qualcosa viene affiancata da una guida il coach è la carrozza del treno rispetto alla fragilità e la forza la cosa che mi sembra interessante qui parlo anche proprio con una testimonianza più che con una riflessione teorica è il fatto che la fragilità e la forza possono stare insieme e questa è appunto una riflessione teorica ma allo stesso tempo può diventare molto facilmente qualcosa che si sente che si mette in pratica pensare che il coraggio sia per esempio l'assenza di paura è un grosso errore che si fa nel nostro modo di pensare spesso in modo antinomico o una cosa o il suo opposto io in questo momento ho molta paura di parlare a voi in questo momento il mio coraggio consiste nel fatto che io la paura ce l'ho lì che la sto addomesticando che comunque la tengo presente mi accompagna ma che la paura non mi impedisce di fare quello che sto facendo questo può essere un allenamento molto importante penso anche in una fase di ricostruzione dopo un periodo di in cui si è subito violenza perché molto spesso si entra in una logica per cui io non ho coraggio le persone si auto raccontano io non ho coraggio perché non prendono in considerazione il fatto che il coraggio e la paura possono stare insieme quindi la fragilità e la forza possono stare insieme la fragilità può diventare forza e una cosa che mi piace molto che ho sentito non mi ricordo neanche più bene dove ma che mi ha molto segnato è l'idea che le ferite possono diventare cicatrici ma e non necessariamente tatuaggi e che delle nostre cicatrici sostanzialmente possiamo lasciare che ci siano le cicatrici si evolvono ma non rimangono per forza dei segni indelebili sulla nostra pelle questo vuol dire che si può cambiare e questa è una delle cose interessanti che si possono fare in un percorso di crescita personale è accettare l'idea che si possa cambiare e accettare l'idea che non è mai vero che non si può o che è troppo tardi per tutta una serie di convinzioni che spesso non ci aiutano a fare questi passaggi quindi vi ho parlato della paura del coraggio e della voglia di cambiare grazie e quindi appunto pensando al dopo al dopo una situazione che è stata di trauma anche prolungato al dopo che richiede secondo me necessariamente e inizialmente una fase di percorso terapeutico fatto con chi sa fare quel mestiere e quindi lavorare sui traumi resta comunque una situazione di fragilità nella quale si possono fare concretamente delle cose spesso queste cose non si sanno che cosa si può fare sul cosa si può lavorare si parlava prima lavorare sull'identità lavorare sulla propria identità spesso nella crescita personale nel coaching si va avanti per domande farsi le buone domande su su chi siamo ma non in modo generico mi piacerebbe darvi degli esempi concreti mi inviterò alla fine al laboratorio così vedete come ci si lavora concretamente però appunto lavorare sulla propria identità chiedersi chi siamo oggi molto spesso noi siamo quelli che eravamo vent'anni fa le coordinate della nostra mappa spesso sono quelle di vent'anni fa come si fa il download della nostra mappa per capire chi siamo veramente oggi come si lavora sui nostri valori non in sesi in senso filosofico mulare ma come si lavora su quello che è importante per noi oggi come ci quante volte ci chiediamo in un giorno ma cosa è importante veramente in questa fase della mia vita io non me lo sono non me lo chiedevo mai imparare orientare la propria vita sulla base della propria identità di oggi e dei nostri valori di oggi significa avere acquisire una forza che molto spesso è quella che in una situazione di prolungata violenza c'è stata completamente minata se non completamente annientata e sono riferimenti che non esistono più se ne esce spesso con una situazione di confusione emotiva mentale per cui dove vado chi sono cosa faccio cosa mi interessa le risposte non ci sono quindi lavorare sul cosa vuol dire lavorare sull'identità i valori i propri obiettivi lavorare sul come vuol dire attivare le proprie risorse fare un lavoro su quali sono le proprie risorse interne esterne cosa possiamo avere di noi che ci dà valore che cosa può venire da fuori quali sono i nostri alleati quali sono i nostri veri nemici come fare a separare questi due ambiti attingere quindi alle nostre risorse di creatività che spesso anzi direi sempre in una condizione di violenza di paura sono totalmente inaccessibili noi pensiamo in una condizione di paura non si pensa più di avere delle possibilità le possibilità si azzerano quindi attivare la creatività attivare la libertà attivare il cambiamento dicevo la voglia di cambiare che è molto importante per se uno vuole fare un percorso di questo tipo che è anche molto faticoso non soltanto interessante e che permette di riportare energia positiva nella propria vita il cambiamento vuol dire imparare a stare con quello che c'è e quindi per evitare più possibile di stare rivolti verso il passato o di pensare a un futuro ideale che magari ci schiaccia perché è enorme e anche imparare a spostarsi rispetto ai propri binari rispetto agli argini in cui siamo stati che magari non erano neanche i nostri degli argini che ci ha imposto qualcun altro e poi passare all'azione questa forse è la forza più grande di questo tipo di intervento è il fatto che sulla base delle nuove coordinate della nuova mappa della nuova bussola che riusciamo a individuare con questo tipo di esercizi poi vi dirò sono proprio delle tecniche insomma che si applicano come si usa il tubo nel negozio di ferramenta arrivare a realizzare delle cose in questo tipo di grazie in questo tipo di vengo quindi alle parole ancora due cose soltanto poi dopo lascio volentieri spazio in questo tipo di attività le parole sono degli strumenti che sono che servono quindi per esprimersi e servono anche per fare esperienza servono per chiedere dare aiuto e servono per farsi le domande che ci servono che servono a noi non le domande che gli altri ci impongono quindi cercare risposte anche soluzioni le parole hanno delle direzioni le parole vanno da noi agli altri vanno dagli altri a noi e vanno da noi a noi stessi in questo tipo di attività si impara a gestire queste situazioni in un modo più funzionale rispetto a quello che noi desideriamo quindi le parole dalle parole dentro alle parole fuori quando si esce da una situazione di violenza si è in una situazione di solito di silenzio in cui c'è un se ne parlava anche prima un timore enorme a silenersi a parlarsi a esprimersi ma anche allenarsi a dosare uscire da una situazione di violenza di maltrattamento molto spesso al momento in cui ci si sente legittimati a parlare c'è una specie di esplosione di parole inarrestabili si cercano continuamente degli interlocutori che appunto poi magari non ci capiscono che non sono le persone giuste per ascoltarci quindi anche imparare a relazionarsi con i nostri interlocutori su questo si può fare proprio un apprendimento tecnico chi ho di fronte a me è una persona di cui mi posso fidare è una persona che funziona come me è una persona a cui è meglio non parlare di alcune cose e quindi proteggersi per esempio e non esporsi a chiunque e poi la cosa più importante sono le parole da noi a noi stessi io incontro continuamente persone senza attività e io stessa l'ho fatto e continuo a farlo inevitabile che hanno un una autonarrazione totalmente disfunzionale in molti casi dannosa quanti di voi direbbero alla propria compagna di banco in questo caso di panel ma questo libro che stai leggendo ma non va bene ma insomma ma cos'è ma ti sembra di poter fare una cosa del genere ma tu stai seduto qua e sei davvero convinto che sei uno all'altezza di stare in questa situazione questo è molto spesso il linguaggio che noi utilizziamo con noi stessi chi è vittima di maltrattamento di violenza utilizza questo linguaggio 24 ore su 24 si parla in questo modo riuscire a modificare la narrazione che abbiamo di noi stessi vuol dire imparare a darci valore vuol dire utilizzare le nostre parole e non quelle che abbiamo sentito da qualcun altro che spesso aveva più potere se non più prepotenza di noi quindi imparare a dialogare meglio con noi stessi allenandosi anche in questo caso ci sono delle tecniche per farlo è una cosa che ha immediatamente un'utilità perché cambia il nostro modo di pensare a noi al nostro valore e poi in quante persone siamo dentro di noi imparare a gestire chi abbiamo dentro noi siamo ognuno di noi è tante persone ognuno di noi è una donna è contemporaneamente il giudice di quella donna o un uomo è contemporaneamente il giudice di quell'uomo e tutte queste persone dentro di noi parlano e la paralisi in cui noi a volte ci troviamo a vivere soprattutto dopo un momento di sofferenza è una paralisi dovuta al fatto che tutte queste voci parlano l'una contro l'altra non si ascoltano e ci portano a non sapere più come andare avanti come muoverci quindi le parole come attrezzi dicevo ultima servono in un processo di crescita personale e di accompagnamento come può essere fatto appunto nel coaching a ridare un significato al passato restituire riportare senso ridefinirsi nel presente e generare futuro generare futuro libero generale futuro creativo generare futuro aprendo il ventaglio delle possibilità e non rimanendo incatenati ai condizionamenti che noi o che qualcun altro ci ha imposto nel passato passare da tecniche di resistenza a tecniche di esistenza chi esce da una situazione di violenza e maltrattamento è abilissimo nelle tecniche di resistenza ma può reimparare delle tecniche per essere presente e quindi per esistere quindi questo vi dico e qui concludo per non sottrarre tempo agli altri vi voglio ringraziare e vi voglio dire che se avete voglia di saperne di più su questo progetto che si intitola volere volare farsi valere partecipare ai laboratori che abbiamo una seconda edizione il 7 di dicembre poi ci saranno ce ne saranno altre è una cosa che io avrei voglia di far viaggiare partendo magari da storie che non sono sempre la stessa ma anche altre storie se avete storie da proporre insomma se vi interessa conoscerne un po' di più sapendo un po' di più lì c'è il mio indirizzo mail mi potete scrivere sarò felice di accogliervi e di dirvi benvenute e benvenuti grazie a Giovanna Melloni che ci ha aperto a una fase che talvolta anche nelle riflessioni che noi facciamo attorno a chi subisce violenza un po' ci dimentichiamo che è quella della ricostruzione lunga nel lungo periodo nella destrutturazione di una narrazione e poi nella ricostruzione che appunto viene dopo la fase del lavoro sul trauma quella più acuta dove in effetti lì le parole hanno una capacità di raccogliere spesso una dimensione di rottura in cocci quindi quando poi si fa questo passaggio ci sono ricomposti allora però bisogna ricreare la figura darei quindi una parola per questa terza voce a Petra Filistrucchi buonasera grazie sono state dette già tante cose pensavo venendo in qua che la parola quando si 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 lavora con le donne i bambini e le bambine che hanno vissuto situazioni di violenza effettivamente è un pezzetto importante ed è importante però in modo diverso nelle diverse fasi come diceva Radonata e questo lo pensavo anche ascoltando tanti degli interventi che mi hanno preceduto e penso che forse la cosa più utile è provare ad accennare il modo in cui nelle diverse fasi nell'esperienza di Artemisia del centro antiviolenza dell'area metropolitana ferentina il ruolo che ha la parola nelle diverse fasi e già parlare di fasi e dare un nome alle diverse fasi è un è già parlare esatto i pezzi di me esatto allora dunque c'è un 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 primo momento fondamentale che è quello della rilevazione della violenza della valutazione del rischio che si intreccia anche profondamente con la capacità del contesto dei vari contesti di vita delle donne dei bambini e delle bambine di rilevare e quindi con tante delle cose che sono state dette prima un centro antiviolenza è un luogo dove 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 si va sapendo di di poter chiedere un tempo un tempo proprio per per fare delle domande per farsi delle domande ma farsi l'altavoce e questo è un per farsi delle domande farsi l'altavoce e farsene fare e questo è un davvero un pezzettino fondamentale quando si parla di violenza perché nominare la violenza è tanto difficile è tanto difficile quando ci si vive dentro anche è difficile perché si crescendo o vivendo in dinamiche violente si inizia a pensare come la persona che agisce violenza come mi ha detto poco fa e quindi si inizia a pensare che è normale rendere conto dei propri spostamenti che è normale ricevere insulti che è svalutazione continue che in fondo è normale anche anche ricevere delle aggressioni fisiche che forse ce lo siamo meritati e il silenzio è un elemento una costante delle situazioni di violenza anche perché in qualche modo il silenzio anche nei confronti di se stessa protegge dal dolore dall'illusione di proteggere dal dolore dalla vergogna per quello che si vive e quindi avere dei luoghi il centro di violenza è uno di questi in cui iniziare a dare parole è un elemento prezioso insostituibile il tema della vergogna si intreccia tanto con quanto è difficile nel nostro contesto culturale nominare la violenza quindi si intreccia tanto con l'importanza della scuola l'importanza delle attività di sensibilizzazione lo dico sempre lo continuerò a dire questo è un quartiere meraviglioso da questo punto di vista particolare che sicuramente facilita poi quell'atto di coraggio che chiede aiuto sempre rispetto al tema che poi in realtà entrare in contatto con le proprie fragilità e pensare che esistono è un atto di coraggio dicevo prima però anche delle parole delle domande che si fanno nel senso che poi per aiutare una donna a nominare quello che succede bisogna domandare e banalmente all'inizio bisogna domandare che cosa succede prima di arrivare alle considerazioni più psicologiche bisogna descrivere i fatti e facendoseli raccontare e accettando che raccontarlo di nuovo richiede del tempo e non è semplice questi iniziano a tracciare a prendere il loro nome a tratteggiare un quadro che poi si può definire un quadro di violenza dove di nuovo è stato detto anche questo prima certo la violenza psicologica è il quadro che è più difficile da il mosaico è più difficile da ricostruire anche perché passa solo tra virgolette attraverso una parola che però è costante continua e in questo modo attacca l'identità della persona le domande che si fanno che spesso non si fanno in tanti luoghi perché il domandare fa paura perché banalmente assumere e capire e dirsi definitivamente che quando si è davanti a un disagio di un bambino bisogna escludere che esista una situazione di violenza è una cosa che ancora non si riesce a fare non si fanno le domande nel modo adeguato se un bambino fa un accesso a un servizio di psicologia o di neuropsichiatria rispetto a dei disagi e non si pensa che parlare con i genitori significa anche parlare con i genitori separatamente per poter domandare e di nuovo non si usa la parola nelle sue potenzialità e però mi colpiva il non siamo pronti non siamo pronti o no perché io sono tanto d'accordo che i libri in tutte le fasi poi servono perché i bambini possano pensare che di certe cose si può parlare che è lecito che è legittimo dirle e di nuovo anche quando non si capiscono però anche però bisogna essere pronti e che spesso non si è pronti perché poi quando un bambino parla quando una donna parla e poi ha parlato e bisogna saper ascoltare perché nell'esperienza sempre di Artemisia nel lavoro ormai lungo con gli adulti vittime di violenze e maltrattamenti nell'infanzia e anche testimoni di violenza domestica ricorre quando ci si arriva ricorre l'esperienza di aver provato a raccontare di aver detto ma che poi quella parola lì è caduta in terra davanti a un mondo adulto che non sapeva come muoversi e quindi di nuovo quanto è importante non solo la sensibilizzazione perché di questo tema si parli e se ne parla perché se ne possa parlare senza vergognarsi e senza colpevolizzarsi ma anche perché si possa sapere cosa fare qual è il pezzetto di ciascuno dove inizia e dove finisce nell'accompagnare le donne e le bambine a raccontare la violenza che vivono e uscirne il trauma disorganizza l'esperienza e crea crea isolamento il percorso di uscita dalla violenza è possibile nella misura in cui questo si rompe il silenzio si rompe l'isolamento e si riesce a rimettere ordine alla propria esperienza ridando coerenza ridando ordine e lo si fa all'interno di una relazione questo è l'altro aspetto fondamentale una relazione che di nuovo è rispettosa dei tempi non solo dei tempi della direzione e anche degli strumenti che servono perché poi io penso che non esista un martello per tutti i chiodi e questo è proprio una cosa che non si finisce ad imparare nel senso che poi le persone le donne i bambini le bambine gli uomini che hanno subito violenza nell'infanzia quando iniziano dei percorsi di uscita li portano avanti poi pian pianino davvero recuperano la possibilità di scegliere cosa serve loro anche come strumenti anche come cassetta degli attrezzi di uno psicoterapeuta di un coach di un amico di un di un'associazione sportiva non so insomma dicevo dicevo prima ancora rispetto a quanto poi le parole sono importanti e quanto invece spesso continuano a confondere banalmente anche questo lo sappiamo si ridice però anche la distinzione l'uso della parola il conflitto anziché la violenza è tanto difficile per chi per chi inizia a nominare quello che subisce a dargli un nome come violenza ma è tanto difficile anche perché la confusione è ricorrente perché la patta sulla spalla del del hanno litigano no? non viene alle donne che vanno a denunciare avviene nei tribunali ricorre scappa perché è proprio un meccanismo di difesa che abbiamo e quindi di nuovo la parola è anche uno dei modi in cui si manifesta la nostra resistenza a vedere la realtà della violenza a dirla il ritorno sulla questione delle delle fasi per dire che sempre la descrizione di quello che accade è anche quello che aiuta nel valutare e rilevare il rischio nelle situazioni quindi spesso nei primi colloqui con le donne che vengono al centro antiviolenza si fanno domande per farsi raccontare quali sono gli episodi che cosa accade qual è la situazione e di nuovo attraverso le domande si mette si inizia a costruire il quadro capita spesso che nella percezione comune quando si chiede aiuto per una situazione di violenza questo significa che c'è bisogno di essere allontanati da casa essere collocati da qualche parte deve esserci una denuncia questa è una delle possibilità ci sono situazioni ad alto rischio che richiedono questo ci sono situazioni che invece richiedono proprio tutto il tempo per iniziare attraverso il racconto le parole a sviluppare dei pensieri alternativi rispetto a quelli in cui si è vissuti per tanto tempo dei pensieri alternativi rispetto a quelli che la persona che agisce violenza propone ripropone quotidianamente e dei pensieri alternativi sui quali fondare poi le proprie capacità di 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 autoprotezione anche che passano attraverso il riconoscimento anche di quello di quello che accade quindi da da questa fase di rilevazione e di valutazione del rischio si costruiscono in modo diverso la fase della protezione e le fasi successive che sono la valutazione e anche l'elaborazione del del trauma rispetto a questo e poi e poi finisco di nuovo anche qui nei percorsi di elaborazione del trauma la parola A giocano l'importante e anche se sempre di più si sa che non che in realtà non sempre e non per tutti quando si lavora sul trauma si può passare attraverso il conversazionale perché il trauma lascia un'impronta sul sul corpo e le memorie sono memorie anche fisiche e quindi diciamo poi l'evoluzione della terapia del trauma non in qualche modo ridimensiona anche poi quello che è il ruolo o almeno il fatto che attraverso la parola e il racconto e il ricordo di quello che è accaduto questo sia l'unico modo di lavorare quello che è accaduto c'è comunque una parte fondamentale iniziale che è quella della dell'iniziare a a riconoscere come si funziona che è quella della psicoeducazione che passa attraverso la parola esistono e rispondiamo tutti agli eventi traumatici in alcuni modi utilizzando alcuni meccanismi meccanismi di difesa che nel tempo poi diventano disfunzionali parlare di questi nominarli farli conoscerli riconoscerli nella propria esperienza è è un pezzo fondamentale del percorso esercito alle situazioni di violenza così come progressivamente poter appunto ridare una narrazione a quello a quello che è accaduto agli eventi riordinandolo nel tempo questo anche all'interno della della relazione madre-bambino che colpita e danneggiata dal dal subire dal subire violenza arriva un momento in cui è possibile ed è importante legittimare quello quello che si è anche attraverso la parola legittimare quelle che sono state le emozioni indicibili in quel momento ridare un significato comune all'esperienza comune nel senso insieme tra l'amma e il bambino all'esperienza vissuta e credo che di nuovo anche in questo poi il fatto che esistano degli strumenti possa essere una risorsa importante perché comunque che il trauma toglie la parola è un'esperienza che credo abbiamo un po' tutti davanti alle e che però poi riuscire all'interno di una relazione a ritrovare questa parola è un pezzetto davvero importante chiudo citando Bolbi che è un grande psicoterapeuta che dice anche le parole che non si possono dire giocando tra mother e other alla mamma o all'altro sono parole che non si possono dire nemmeno a noi stessi e credo che appunto in questo si riassuma un po' l'importanza anche del del trovare le parole per parlare della violenza in una stanza di un colloquio in un centro antiviolenza a scuola nella comunità e questo grazie allora innanzitutto grazie di fuori a ciascun intervento perché penso che stasera davvero abbiamo ricevuto veramente tanto e nell'ascoltarvi vi voglio lasciare un pensiero e abbiamo parlato di di violenza domestica di come affrontarla di come cercare di curare queste ferite che vengono fuori credo che sia importante pensare che a volte questi percorsi ci si trova d'improvviso avendo alle spalle semmai una vita serena tranquilla un quadro familiare che che forse abbiamo cercato di rispecchiare anche nella nostra scelta che abbiamo fatto poi da adulti affiancandosi a un compagno e che non riusciamo a riconoscere addirittura ci colpevolizza ci rendiamo ci sentiamo come colpevoli di un percorso che non siamo riusciti a mantenere a rivedere a rileggere credo che sia un passaggio importante arrivare pronti anche a quello che la vita a volte ci presenta in maniera in attesa e e credo che che l'aiuto e la conoscenza siano rivolte a tutte le donne a tutte le donne in qualsiasi periodo d'età perché a volte non non si mettono in conto dei passaggi e non si riconoscono questi passaggi mentre se c'è una conoscenza all'inizio insomma di quella che è il nostro cammino come come donna come nella società il rispetto che si deve avere si è parlato del della scuola primaria insomma ma è è un percorso che dovrebbe accompagnare ripetutamente in tutte le fasi della vita quello che è che è l'importanza di conoscere questo questo pericolo fra virgolette che che può venire fuori e e e capire che non solo che che a volte se ne può uscire ma davvero che non ne siamo colpevoli io penso che sia uno degli scogli più difficili da da superare perché che il silenzio spesso viene perché ci sentiamo ci mettiamo in discussione ci sentiamo in errore ci sentiamo in un in un momento di di disarmonia con noi stessi e con gli altri perché gli altri semmai li vediamo perfetti li leggiamo in maniera diversa anche da quello che che forse realmente sono no e e quindi io eh questo discorso della prevenzione ci ci tengo tanto e credo che sia basilare nelle scuole e a volte si bussa alle porte si chiede risposta solo quando ci siamo con i piedi dentro e diventa difficilissimo perché uscire dal fango è difficilissimo quando ci siamo dentro e invece ecco penso che che tutti gli strumenti e mi piace dirvi strumenti ma non per per diminuire ma per darvi un valore immenso sia bello portarli e accompagnarli a tutte le le donne in qualsiasi fase della vita per capire che in ogni momento se ne può tirare uno e si può bussare a una porta io passo la parola a Mirko Dormentoni il presidente del quartiere in questo divano rosso fatto di donne insomma la presenza di un uomo e della sensibilità insomma che il quartiere ha grazie anche a quello che lui porta avanti ci stimola ogni giorno sia significativo e quindi insomma due parole anche da parte di tua grazie grazie Beatrice grazie grazie donata grazie a tutte le donne che oggi ci hanno portato delle riflessioni e delle dei contenuti importanti e delle parole importanti a proposito di delle parole non dette stasera ne abbiamo dette ne avete dette molte per fortuna e credo che davvero questo sia un tema fondamentale questo che poi era la poesia di Valentina le cose non dette e bisogna trovare anche il momento di chiedere scusa a quelle cose non dette ma soprattutto cercare invece di dirle e in qualsiasi momento perché questo è importante per la prevenzione nella vita di una coppia per il momento invece in cui poi arriva la la violenza che sia anche la prima violenza psicologica economica eccetera e tutte le fasi insomma di cui avete parlato molto bene e quindi davvero io dalle cose che ho ascoltato stasera trago soprattutto questo questo tema del delle cose che vanno dette che credo sia un tema molto difficile ma importantissimo e quindi grazie grazie davvero sono contento che questo sia stato un altro bel incontro utile incontro perdonatemi l'aggettivo che sembra un po' un po' diminutivo ma invece utile è importante perché noi facciamo delle cose che devono cercare di raggiungere degli obiettivi e il tema della scuola l'ha detto Beatrice è un altro un altro contesto un altro ambito difficile ma fondamentale nel quale portare questi queste riflessioni e queste azioni soprattutto appunto nella prevenzione educativa e culturale e per noi questo era l'ultimo se non ricordo male perché abbiamo perso forse il filo rosso il filo rosso Gabriella laggiù ne è ben testimone quest'anno è stato davvero molto lungo e il filo rosso del quartiere 4 che viene da da ormai da una tradizione è un'istituzione diciamo che quest'anno abbiamo anche portato poi simbolicamente non simbolicamente fisicamente in questa passeggiata per le panchine che ha contaminato anche i nostri vicini del quartiere 5 e infatti con l'assessore albanese dicevamo che il prossimo anno questa passeggiata fra le panchine rosse una passeggiata raccontata riflettuta poetica la possiamo fare in tanti modi ma la vorremmo fare in tutta la città insomma 18-19 iniziative quest'anno nel quartiere 4 questa questo è l'ultimo appuntamento esatto e ringraziamo anche la biblioteca Nova Isolotto che è un è un luogo di cultura importante che sta tornando a vivere in presenza cosa importantissima appunto per noi il 25 novembre è tutti i giorni questo fiore lo testimonia e per me ormai è diventato un abbigliamento importante quotidiano e e quindi insomma oggi è l'ultima iniziativa del filo rosso ma in realtà noi questo filo lo dobbiamo continuare a dipanare tutti i giorni lo faremo e quindi grazie a tutte andiamo avanti grazie grazie a tutti grazie a tutti